Ok Posso consigliare il mariachi molto buono E' fresca La parola che è anche quello che è Questo sullo sprizzano E' molto delicato Ma io si è fatto male E' giovedì Andiamo a creare il loro spazio E' come era domani Vado in patino No a mio un mariachi Un mariachi Buonasera Ciao Grazie Sì Grazie mille.